e ciao a tutti diamanti e diamanti sono con bar king e siamo su questo gioco allora iscrivetevi lasciate like se volete un commento e iniziamo se io ho capito certo ma raga quello verde sono io ce la posso fare che cosa hai? che cosa hai? un po' un po' un po' siiii siiii oh no anche il suo ai Grazie a tutti. 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 Aspetta, 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 ho capito tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no... aspetta cosa sta succedendo? non capisco niente ok grazie che schimbo è finito non ne vremi nulla non ne vremi nulla è un gioco da ragazzi chiudata sto gioco faremo anche dello stesso colore ma non me ne frega niente del colore che hai tu io voglio comunque sfracassarti ce l'ho fatta e questo con le poter spiegare con questo con questo non ho capito bene perché con la faccia fa schifo quindi io non voglio una faccia che fa schifo ragione raga a dividere le truppe Grazie a tutti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, continuerò a fare questo gioco e da Bloomberg King vi auguro un bel ciaoone. Grazie a tutti.